In occasione degli 80 anni delle scuole centrali antincendi di Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'opera svolta a tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia dell'ambiente, ricordando anche gli operatori morti in servizio. Nel messaggio inviato alla Ministra dell'Interno Lamorgese, il Capo Tello Stato ha sottolineato l'importanza della formazione per chi svolge un pubblico servizio.